buongiorno a tutti sono Eleonora l'estetista del centro estetico della palestra top jean d'inzago e oggi volevo parlare con voi dei nostri sieri viso il primo siero che vi presento eccolo è della posquam ed è della linea luxury ed è un siero a effetto liftante vi apro la confezione è un elisir dorato che è adatto alle pelli più esigenti infatti contiene l'estratto principale è quello di acido ialuronico ad alta concentrazione gli estratti di germe di grano e di soia quindi degli antiossidanti naturali per mantenere un'idratazione corretta e contiene anche l'oro colloidale all'1 per cento anch'esso un antiossidante molto importante perché va a dare energia vitalità alla pelle luminosità e inizia a lavorare anche già sul discorso di discromie cutanee a tal proposito volevo farvi rivedere un altro siero a cui avevo dedicato un video ed è sempre della posquam il nostro siero invisible infatti contiene l'estratto di acido glicolico a basso peso molecolare va a dare proprio vitalità alla pelle rigenera e l'acido glicolico lavora già sulle fastidiose discromie cutanee ve lo apro così ve lo faccio vedere meglio eccolo esatto un altro siero molto importante anti-age che utilizziamo spesso anche in cabina è questo è della posquam e si chiama global dna essence questo siero è un siero anti age rimodellante ha un'azione proprio ridensificante eccolo infatti contiene dei peptidi che hanno azione proprio tonificante sulla pelle e acido ialuronico a basso peso molecolare non so se riuscite a vedere ma all'interno ci sono delle microsferule che danno una forte luminosità alla pelle soprattutto quando ci sentiamo appunto stanchi vi do un'anteprima tutti questi sieri che vi sto facendo vedere che vi sto presentando li troverete anche all'interno dei nostri cofanetti di natale quindi pensate alle idee regalo un altro tipo di siero non meno importante ma che lavora sul discorso di idratazione è sicuramente un siero sempre della posquam a base di ceramide la ceramide in pratica mantiene un apporto idrico corretto proprio livello epidermico eccolo qua questo è un siero che io consiglio veramente per tutti è fantastico non potete vedere appunto la consistenza all'interno del prodotto ma lo consiglio a tutti perché oltre a darvi un'idratazione ottimale vi protegge dagli sbalzi di temperatura ed è ottimo soprattutto in questo periodo per chi lavora purtroppo in me davanti al computer dove la pelle davvero tende a seccarsi a disidratarsi questo è veramente ottimo oltre all'idratazione l'estratto principale è quello di collagene quindi vi fa anche un effetto antigeno molto importante e un altro estratto molto importante è quello di macadamia che dà proprio turgore ed elasticità alla pelle un altro tipo di prodotto che possiamo utilizzare eccolo sempre della posquam ed è il nostro cofanetto essential care è proprio una microemulsione che è stata creata per le pelli secche addirittura anche disidratate nello stesso tempo però agisce anche come diciamo un trattamento anti age a tutti gli effetti perché l'estratto principale è quello di retinolo e di vitamina e che è un antiradicale per eccellenza il cofanetto è strutturato in questo modo contiene quindi 12 fiale da 3 ml eccole qua se il video vi è piaciuto mettetemi un like un commento condividete e vi aspetto al prossimo video dove vi parlerò dei nostri booster ciao a tutti